Sul tema della spending review, la conferenza dei presidenti dei consigli regionali che si è riunita lunedì a Perugia ha approvato un ordine del giorno che nella sostanza chiede al governo e al Parlamento la rimodulazione dei tagli imposti alle regioni al fine di non penalizzare, sostengono i presidenti, gli sforzi di miglioramento nell'allocazione delle risorse e nell'erogazione dei servizi messi in cantiere negli ultimi tre anni. Ne parliamo con il presidente del Consiglio regionale, Nazario Pagano, che ha partecipato lunedì all'Assemblea plenaria di Perugia. Presidente, sono tagli insostenibili per le regioni? Allora, intanto iniziamo col dire che nella conferenza dei presidenti che si è tenuta ieri a Perugia è emersa una doglianza, una protesta generalizzata dei presidenti nei confronti del governo perché, come al solito, in questa forma di nuovo centralismo nazionale, le prerogative che erano delle regioni vengono sottratte. Inoltre, noi siamo in disaccordo per una ragione sostanziale. I tagli lineari previsti da questo decreto sulla spending review riteniamo che non siano idonei ai bisogni della gente. Sono le regioni che sanno dove è possibile tagliare di più e dove è possibile tagliare di meno. Con un taglio lineare c'è il rischio che avanzino sostanzialmente le risorse economiche in capitoli dove forse non ci sarebbe necessità. E in altri dove invece eroghiamo servizi importanti per la collettività, noi rischiamo di dare meno servizi. Questo non è consentito, non è possibile e quindi il prossimo 24 luglio a Roma cercheremo di far sentire le nostre ragioni. Presidente, la spending review prevede anche il taglio delle province. In Abruzzo potrebbe ipotizzarsi anche una nuova architettura istituzionale sul territorio regionale? Anche su questo argomento la conferenza dei presidenti ha preso posizione. Nel senso che non c'è nessun atteggiamento conservatore da parte dei presidenti di Consiglio regionale e quindi non vogliamo a tutti i costi lasciare le province così come esistono. Però noi pensiamo che la scelta debba essere più radicale, più logica. Cioè se le province effettivamente si reputa che siano inutili, fra virgolette, allora bisogna avere anche il coraggio di abolirle. Diversamente, con questa rimodulazione si creano due problemi. Il primo, evidente, che è quello che nel ridisegnare l'architettura si creano forti tensioni neocampaniliste. Guardiamo quello che sta accadendo per esempio in Abruzzo, dove a fronte di una proposta ne è già solta un'altra, cioè una forma di regione costiera che sia molto più importante rispetto all'altra che era stata proposta. Però anche queste proposte generano conflitti. Il secondo motivo è che in certe regioni minori addirittura c'è il rischio che una regione coincida con il territorio e i confini della provincia, quindi con una confusione di competenze e una sovrapposizione di ruoli. Non abbiamo bisogno di una nuova confusione, abbiamo bisogno di certezze e di semplificazione.